Buongiorno, siamo con Leonardo, capitano del Castelmadama. C'è un po' d'amarezza nel risultato, però si è visto comunque una squadra forte negli ultimi momenti anche in dieci che riusciva ad arrivare nella zona d'attacco avversaria, quindi insomma si riparte da questo immagino. Sì, sicuramente. Purtroppo siamo stati un pochino ingenui, siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un po' di problemi fisici. E' un primis, infatti, ho visto. E' un primis. La partita, alla fine loro comunque, oltre al gol, ci sono presentati poche volte davanti al portiere nostro. Parate, non mi ricordo, insomma, del nostro portiere. Abbiamo avuto qualche occasione, però il calcio è anche questo e dobbiamo lavorare e migliorare. Certo, perfetto. Quindi un monito alla squadra per dare qualcosa in più che è mancato magari sotto porta. Certo, certo. Va bene, grazie mille. Allora speriamo una pronta guarigione e ci vediamo alla prossima. Grazie.